Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video ed oggi amici miei come potete vedere ci troviamo su Skyrim per andare a iniziare una missione intanto ci troviamo nella mia casa nella tundra se per caso non aveste visto il video ve lo lascio qui in alto nelle schede dobbiamo oggi andare a leggere una nota che mi è stata consegnata dal messaggero questa nota mi raccomando potete ottenerla solamente una volta raggiunto il livello 10 il messaggio in questione amici miei ci darà la possibilità di ottenere l'ultima casa che a noi manca alla nostra collezione stiamo parlando del messaggio sfida del guerriero ovviamente questa è una missione del creation club quindi o lo avete acquistato oppure avete direttamente l'anniversario edition che comprende tutti i contenuti del creation club detto questo andiamo a vedere cosa c'è scritto sopra sta sfida del guerriero e inizia la missione Endraheim parla con il guerriero a Endraheim non so bene sicuro non c'è questo modo andiamo a leggere tanto tempo fa i miei antenati hanno costruito una grande dimora tra le montagne a nord della miniera di Bilgulch l'hanno chiamata Endraheim la casa di un guerriero che ha sfidato il Sovengard stesso in veste di ultimo membro del mio clan voglio lasciare questa casa un vero guerriero tu non sei un nord infatti ma mi hanno detto che la tua abilità in battaglia è pari a quella dei nostri leggendari combattenti ti chiedo di provarmelo e idvina scudo del focolare ottimo lasciamo la nostra dimora alle spalle e andiamo verso una nuova avventura come sempre amici miei io vi ringrazio per il supporto che mi stai dando negli ultimi giorni nei video sia di Skyrim che di Elder Ring come sempre io vi ricordo di lasciare un like un commento e di iscrivervi al canale se non ancora l'hai fatto in modo tale da aiutarmi e io di questo vi ringrazierò sempre quella dovrebbe essere la nostra nuova casa penso che sia quella proviamo a scendere da qua senza spezzarci le gambe con molta cautela scendiamo devo dire che il posto in cui si trova questa casa non è per niente male c'è un orso sento un orso eccolo qui abbiamo la nostra nuova spada scendiamolo ok perfetto dicevo dicevamo la zona non è per niente male molto strategica qui in alto sulla collina ma penso che non sia però questa effettivamente la strada per raggiungerla non è il modo ottimale migliore per salire in cima proviamo per di qua ok siamo in cima ma non ho ben capito come arrivare effettivamente mi sono arrampicato attraverso le rocce come un abile alpinista però non non vedo la giusta strada comunque al massimo la scopriremo dopo andiamo a vedere questa bellina casina sulla montagna guardate che vista spettacolare un individuo oh oh cos'è il terremoto mo crolla già ancora non ci siamo abbiamo messo piedi dentro e già crolla andrahim nuova scoperta posiamo l'arma altrimenti questo ci ammazza con la scopa edvina scudo del focolare vediamo che ha da dire cosa vuoi lucertola ah lucertola ci ha dato beh ho ricevuto la tua lettera sono qui per accettare la tua sfida sei tu che hai osato sfidarmi folle ho ricevuto la tua lettera facciamo i gentili capisco ok completata parla con il guerriero ok cosa dobbiamo fare cosa cosa ci offri ah wow ah dobbiamo proprio combattere così all'ultimo sangue ok benissimo sconfiggi il guerriero ah resistente il tuo scudo ma non abbastanza perché stai prendendo fuoco abbiamo quasi ucciso continuiamo così ok l'ultimo colpo no morto morto dal fuoco prendi la chiave così dobbiamo depredare un cadavere il cadavere della povera idvina andiamo a vedere spada del nord la chiave grimaldello la nota andiamo a leggere quando il mondo era giovane le cose erano più semplici era o noi o loro combattevamo per sopravvivere e trovavamo la gloria nella morte ora combattiamo contro i nostri stessi fratelli e sorelle dello scudo con vessilli che cambiano quello in mutare del vento quando ho ucciso Ejarek sul campo di battaglia ho giurato di non combattere mai più questa scelta mi fa onore ma allo stesso tempo mi arrega vergogna i bardi non cantano di coloro che hanno trovato la morte nelle loro case sconfitti dal tempo se lo rivedrò dovrò sostenere lo sguardo di Tsun sul ponte osso di balena e guadagnarmi il mio posto nella sala del valore mi manchi fratello ci vediamo nel Sovengard è questa la lettera di Edvina e vediamo un po' prima di entrare quello che ha da offrire questa casa all'esterno allora abbiamo una sorta di piccola stalla con dei sacchi grandi e dei bauli qui metteremo al massimo il nostro cavallo abbiamo la zona con l'accetta per tagliare la legna la nostra bellissima forgia il nostro crogiolo insieme appunto alla forgia del fabbro la mola per creare le nostre cose addirittura abbiamo anche un banco da lavoro e un baule ottimo devo dire fuori diciamo che non c'è di che ci sta molto di più nella casa della tundra da questo punto di vista forse la casa della tundra ha un qualcosa in più per quanto riguarda l'esterno ora entriamo e andiamo a vedere eccoci qui completata Endraheim Endraheim eccola qui molto accogliente molto spaziosa questa unica stanza da quel che può sembrare una volta entrati abbiamo delle dei troni delle sedie un tavolino con dei bicchieri dell'idromele e del vino abbiamo prima di di proseguire però verso diciamo la parte centrale della casa abbiamo qui sulla sinistra una porta andiamo a vedere apri porta wow qui amici miei inizia a farsi molto interessante abbiamo una rastrelliera di armi tantissimi manichini per mettere le armature anche tutta una parete in cui possiamo mettere le armi ci dice addirittura quale posizionare in questo preciso punto abbiamo giustamente anche la parte con tutte le maschere dei sacerdoi del drago questa cosa l'ho sempre apprezzata dentro le case qui altre armi un altro manichino qui possiamo mettere tutti gli insetti all'interno dei vasetti tutte le pietre modello che avete ottenuto nel dlc di dongard se non ricordo male qui le chiavi del teschio molto molto interessante un altro manichino qua altre armi che ci specifica con con la loro posizione esatta e altre sì altre zone dove mettere armi mi immagino una volta completata questa stanza deve essere veramente un qualcosa di fenomenale molto molto interessante torniamo sopra guardate che bello il teschio del mammut all'entrata per di qua invece abbiamo allora il centro di casa con questo focolare grandissimo abbiamo la parte qui lo spiedo per cucinare tutti i nostri bei cibi qui possiamo fare il pane con l'idia qui abbiamo il vino sotto una cosa di carote il bancone per servire birra ai nostri ospiti qui una tavolata per mangiare tutti insieme delle credenze tantissimo cibo invece per di qua abbiamo un'altra parete con sempre i manichini tutte le tè che dove mettere le nostre armi e farle vedere a tutte le persone che entrano nella nostra dimora addirittura qua ci sta una spada spezzata altre armi alla parete molto molto interessante e per finire abbiamo penso la nostra la nostra stanza i nostri letti abbiamo dei mobili dove mettere tutti gli oggetti che otteniamo durante le nostre avventure addirittura abbiamo anche una cassaforte delle monete che possiamo tranquillamente recuperare abbiamo anche il santuario di Akatosha all'interno di casa nostra un'ascia e un altro letto molto molto bello è tutto molto concentrato tutto si abbastanza sono abbastanza piccoli gli spazi anche della stanza però devo dire molto accogliente sono andato a posizionare un po' di oggetti che avevo nell'inventario poi giustamente va tutto perfezionato più che altro per vedere nell'insieme come può risultare il tutto abbiamo messo una nuova armatura che abbiamo ottenuto dalla missione fantasmi del tribunale anche questa qui ho messo un po' di armi sempre per quanto riguarda le missioni e le quest del creation club anche lì me ne mancavano altre due e poi ho messo anche quest'altra armatura una volta completato penso che sia un qualcosa di veramente carino stessa cosa per quanto riguarda la stanza lì in fondo in conclusione amici miei la casa non mi dispiace è molto accogliente poche stanze l'unica cosa però c'è tutto l'essenziale e ci sta anche una bella parte in cui potete mettere tutti i vostri oggetti e metterli anche più che altro in mostra sono curioso di sapere voi cosa ne pensate di questa casa se l'avete ottenuta e più che altro che tipo di dimora state utilizzando io con questo amici miei vi saluto qui come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale se ancora non l'avevi fatto e ci vediamo ad un prossimo video ciao